mi sono scordato tentiamo di farlo? si si fa dai questo qui se lo laviamo non tutto il calcoro c'è da chiamare la sciaccia per fargliene via vediamo la macchina niente no venite nuova si mettiamolo in macchina anche questo mettiamo in macchina anche te dai questo lo fa l'uomo dai dai guarda perché è una colletta non lo so non lo so non lo dobbiamo vedere l'etichetta cosa dice? la regola dice di la regola dice di la regola d'acqua ora vignano te lo ribossano cosa vuoi? però di peggio deve prendere la responsabilità il signor Ranzazzi meglio di nola guarda perché è un po' di caffè anche? allora mi conviene cosa dici? io ti credo che è dura con baccalà diventa dura con baccalà stiamo facendo un esperimento poliuretano 100% poliuretano non so se sapete ha una durata remitata dura un anno un po' dopo cristallizza duramente si rovina da sé anche se si spaffemano nell'armadio senza portarlo è un rischio il poliuretano è un rischio per esperienza è un rischio perché è una cosa peggiore che possa capitare la lavanderia perché se l'hanno già lavato anche l'anno prima e vi tocca a voi vi si rovina anche d'acqua si perché non so se vi sono capitati quelli che diventano più scuri ecco perché con la risa dunque signora signora ha mangiato bene? si ha digerito? no ancora no ancora no niente adesso signora Ranziaci dirà qualcosa non lo so quindi a questo punto mi ha sfidato sicuramente oramai allora io sono una che sfida ma se non so io non vi lo amo sento è più morbido di prima però non ve lo sforzate appunto non lo deve lavare no 100% stanno non nuovo non nuovo posso mettere in rete? posso mettere in rete? no lo metto su Facebook è un filmino lui mi ha detto di sentire il segno l'aveva anche malavate lei neanche acqua acqua a me lo faccio sentire mi è andata peggio a me col caffotto è molto di allamare i due i bottoni tutti rotti è un terrorista mi ha messo paura mi ha fatto lo scherzo si rompono assicuri andiamo a prenderlo e vai a prenderlo facendo il filmino e la camina mi devo fare il regalo dei matrimoni prima e dopo la cosa si si grazie